Ciao, mi chiamo Paolo Baciglieri, sono un fumettista di 55 anni, terrestre tendenzialmente, e sono qui per fare un incontro, un workshop con, non so chi saranno, dei ragazzi? Dei vecchietti? Fritto misto? Dove parleremo di fumetti naturalmente e città. La carta per me è un bene primario, sono ancora di quei fumettisti analogici molto legati al mezzo cartaceo. Per me la carta significa l'attrito, è una cosa a cui non sono ancora capace di rinunciare, mi fa sentire su questo pianeta l'attrito, un po' come la forza di gravità, per esempio disegnare con l'iPad è bellissimo, ma appunto manca questa cosa essenziale che è l'attrito, la fisicità, la bellezza anche della carta, l'odore. È il primo festival che faccio post-Covid e quindi sono emozionato come quando tipo avevo 16 anni alla mia prima Lucca Comics.